Musica Benvenuti a questa nuova lezione del corso di Scienza delle Costruzioni. Nelle lezioni precedenti abbiamo determinato e risolto strutture isostatiche che si potevano ricondurre a tipologie di arche a tre cerniere e nella scorsa lezione di travi ad asse rettilineo. In questa lezione invece passeremo a determinare strutture a maglie chiuse che sono delle strutture un po' particolari per la tipologia geometrica per il fatto che sono strutture che sono almeno biconnesse. Nella fattispecie cominceremo a entrare nel dettaglio della peculiarità di questa tipologia, determineremo quindi le condizioni di isostaticità per queste strutture, determineremo come al solito le reazioni vincolari, in particolar modo sia quelle esterne e come vedremo in maniera più dettagliata quelle interne che sono forse un po' più complesse da determinare e successivamente determineremo i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione e in alcuni casi anche la curva delle pressioni così come la deformata elastica qualitativa. Passiamo a determinare inizialmente la ricerca delle lezioni vincolari utilizzando il metodo grafico che in qualche modo ci può servire, come visto nella lezione delle curve delle pressioni, a avere una prima e molto veloce informazione circa il comportamento statico della struttura. In figura fra l'altro è riportata la foto di un tombino scatolare che è la classica struttura a maglia chiusa che viene utilizzata in generale, una struttura civile che serve generalmente per lo scrollo delle acque nei manufatti ferroviari e stradali. Cominciamo quindi a definire un po' la tipologia di struttura a maglia chiusa. Nella slide è rappresentata una maglia chiusa che come abbiamo visto quando abbiamo definito l'isostradicità delle strutture, ha necessità di avere tre sconnessioni semplici o una sconnessione tripla affinché risulti isostatica internamente. Nell'esempio in figura le tre sconnessioni semplici sono ottenute introducendo opportunamente tre cerniere non allineate che darebbero luogo altrissì a un cinematismo e nella fattispecie la struttura non è vincolata con vincoli esterni. Quindi questo tipo di struttura risulta essere isostatica internamente malabile per vincoli esterni e quindi può essere in equilibrio se e solo se viene sollecitata da un sistema di forze a risultante nullo, quindi autoequilibrato. Quindi ipotizziamo che la nostra struttura sia soggetta a due forze F aventi la stessa retta d'azione, che quindi essendo uguali opposti hanno risultante nullo e avendo la stessa retta d'azione hanno un momento risultante nullo rispetto a un polo arbitrario, sia alle mezzi la distanza del punto di applicazione della forza F rispetto al montante di sinistra. Per determinare le variazioni vincolari col metodo grafico dobbiamo partire ovviamente dal tratto scarico, il tratto AC come vedete è un tratto scarico per cui funziona da biella e quindi la reazione interna di A non potrà che passare anche per C, quindi questa è la prima informazione che abbiamo. Se adesso andiamo a guardare il tratto indistintamente sia il tratto BA o il tratto BC, questi due tratti sono soggetti a tre forze, la forza esterna applicata F, la reazione interna A e la reazione interna di B. Le tre forze non possono che passare per lo stesso punto, pertanto la reazione interna di B passerà per B ma passerà anche per il punto di intersezione fra la forza esterna applicata F e la retta d'azione di A. Quindi questa è la direzione della reazione interna di B. Fatto questo possiamo come al solito riportare le direzioni, possiamo determinare le reazioni con il poligono di equilibrio. Quindi questo è l'equilibrio del tratto AB in cui abbiamo la forza F diretta verso l'alto, la forza R con B che agisce su questo tratto sta diretta verso il basso, ha la stessa implicazione ovviamente della direzione determinata precedentemente, la R con A invece è anch'essa diretta verso il basso. In figura riportiamo adesso invece il triangolo di equilibrio per quanto riguarda il tratto BC che avrà la R con C che agisce sul tratto BC diretta verso l'alto, così come la R con B che agisce sul tratto BC. È possibile poi sempre per via grafica determinare anche le singole componenti osservando le pendenze delle rette. La retta d'azione di B risulta avere una pendenza di 3 a 1, quindi da dove si sposta di 1 orizzontalmente si abbassa di 3, mentre la pendenza del tratto AC è di 1 a 1, in quanto spostandosi di L orizzontalmente si abbassa di L verticalmente. Detto questo, possiamo quindi comporre, nel momento che il rapporto, essendo 1 uguale a la componente orizzontale, la forza F avrà, per 3 quarti verrà assorbita dalla forza R con B, per un quarto dalla forza R con A. E dal momento che abbiamo questa informazione, sappiamo quindi che la R con A avrà una componente verticale pari ad F quarti, ed essendo la pendenza 1 a 1, anche la componente orizzontale sarà pari a F quarti. Mentre per quanto riguarda la R con B, ha una componente verticale pari a 3 quarti di F e una orizzontale pari invece ad F quarti. Quindi, per via grafica, possiamo in maniera semplice, senza effettuare grossi calcoli, avere già delle informazioni ben precise anche sulle singole componenti delle forze. Passiamo a un altro caso. Il caso in esame presenta, anche in questo, diciamo, l'assenza di vincoli esterni, quindi la struttura a maglia chiusa può essere in equilibrio se solo se, sollecitata da un sistema di forze autoequilibrato come quello rappresentato in figura, ma a differenza del caso precedente abbiamo quattro sconnessioni semplici che quindi renderebbero labile internamente alla struttura. Per annullare questa labilità abbiamo inserito una biella interna che fa sì che il tratto DCB sia rigido, quindi in qualche modo la presenza della biella va ad annullare la sconnessione in C. Per determinare da un punto di vista grafico questa struttura, partiamo sempre dal tratto scarico, il tratto scarico in questo caso è il tratto DA, che quindi si comporta come una biella diretta da D verso A e quindi le reazioni interne tanto di D quanto di A hanno come direzione la congiungente e le due cerniere. Fatto questo possiamo andare ad analizzare il tratto AB che risulta soggetto alle solite tre forze, la reazione interna di A, la forza esterna applicata F e la reazione interna di B della quale inizialmente non si conosce la direzione, ma si conosce soltanto che dovrà passare per B. Siccome delle altre due conosciamo più o meno tutto, conosciamo le due direzioni, nel punto di intersezione fra le due direzioni, fra le due rette, ecco che per questo punto dovrà passare anche la reazione di B e quindi abbiamo in qualche modo determinato anche la reazione interna di B. Se passiamo poi al tratto CB, il tratto CB risulta essere soggetto alla reazione interna di B della quale conosciamo la direzione, alla reazione della biella che ha direzione P e che chiaramente agirà con una forza diretta secondo la propria direzione, e la reazione interna di C che agisce su questo tratto che dovrà anch'essa passare per C e per il punto di intersezione fra le altre due rette d'azione delle due forze. Ecco quindi determinato anche in questo caso la reazione di C. Quindi abbiamo determinato in qualche modo tutte le direzioni delle reazioni interne delle cerniere. Fatto questo passiamo al poligono delle forze per determinare quindi le reazioni come moduli. Partiamo dal tratto AB, quindi soggetto alla forza F, alla reazione interna di B che ha direzione parallela a B e alla reazione interna di A che invece è diretta secondo questa direzione A. Le tre forze devono essere in equilibrio e quindi il poligono deve essere costituito da forze che si inseguono e quindi la reazione di A sul tratto AB sarà diretta verso l'alto, la reazione di B sul tratto AB sarà anch'essa diretta verso l'alto. Per quanto riguarda poi il tratto BC, il tratto BC quindi risulta essere soggetto alle tre forze, la reazione interna di B diretta lungo B e quindi possiamo costruire i moduli della reazione di C e della reazione del pendolino interno P. Se passiamo adesso al tratto DC, che è soggetto quindi alla forza F, alla reazione di D che ha la stessa direzione di A, queste dovranno anch'esse inseguirsi come forze. Naturalmente la reazione parallela a B non è altro che la risultante delle forze che agiscono sul tratto C, quindi della biella e della reazione interna di C. Quindi questo risulta essere il poligono delle forze nel tratto invece di C. Quindi se riportiamo in figura le reazioni, ecco che queste sono le reazioni che agiscono sulla nostra struttura. Naturalmente la cosa che va sottolineata nelle strutture a maglie chiuse è che naturalmente quando si tratta di reazioni interne bisogna andare a riportare in maniera corretta le reazioni che agiscono sui singoli tratti, che saranno uguali e opposte a quelle che agiscono sui tratti complementari. Passiamo adesso a risolvere delle strutture a maglie chiuse vincolate anche esternamente e soggette a carichi diversi. Nel primo esempio che andiamo a prendere in esame è costituito sempre da una maglia chiusa di altezza 2L e di larghezza 3L che risulta essere svincolata internamente mediante tre cerniere. una posta in A, la seconda posta in B e la terza posta in E, cioè a L rispetto al montante di sinistra. Esternamente la struttura risulta essere vincolata in A mediante una cerniera e in B mediante un carrellino a scorrimento orizzontale. Allora, la nostra maglia chiusa, dal momento che abbiamo introdotto tre sconnessioni semplici non allineate, risulta essere, si può vedere come un unico corpo rigido. Pertanto, da un punto di vista del comportamento statico, risulta essere un corpo rigido, quindi come se fosse, se vogliamo, un elemento trave che risulta incernierato in A e appoggiato in B. Quindi abbiamo già visto abbondantemente nelle elezioni precedenti che questo tipo di trave, quindi non ha la possibilità di avere centri di assoluta rotazione, quindi per quanto riguarda i vincoli esterni è ben vincolata. Quindi essendo svincolata opportunamente nel proprio interno e essendo vincolata in maniera tale che non possa esistere nessun centro di assoluta rotazione, la struttura risulta essere isostatica. Se vogliamo effettuare anche il computo dei vincoli globali, la nostra struttura risulta essere costituita da tre tratti, quindi abbiamo in generale, essendo una struttura piana 3x3, nove gradi di libertà originali. Per quanto riguarda i vincoli ne abbiamo sei interni, che sono le tre cerniere interne, più tre esterni, quindi abbiamo nove vincoli, quindi il computo dei vincoli porta in questo caso che G-V risulta essere uguale a zero, che era la condizione necessaria per garantire l'isostaticità e per il discorso appena fatto per quanto riguarda i centri di assoluta rotazione possiamo sicuramente affermare che la nostra struttura è isostatica. La nostra struttura risulta essere soggetta, nel caso in esame ha un carico distribuito Q orizzontale diretto verso destra, agente sul montante di sinistra, quindi sul montante C-B. Per determinare le relazioni vincolari, quindi possiamo tranquillamente ipotizzare delle componenti in maniera del tutto arbitraria, ipotizziamo per esempio la componente orizzontale di A diretta verso sinistra, la componente verticale di A diretta verso il basso, la componente verticale di B diretta verso l'alto. essendo solo tre le componenti delle reazioni esterne, sono sufficienti le tre equazioni cardinali della statica per determinarne le tre, cominciamo quindi a scrivere queste equazioni di equilibrio e iniziamo a scrivere l'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale, ricordandoci che per noi sono positive in generale le forze dirette verso destra. Quindi in questo caso avremo H con A negativo più 2QL uguale a zero, da cui riferiamo che la componente orizzontale di H con A va ad assorbire tutto il carico orizzontale che agisce sulla struttura. Quindi H con A è uguale a 2QL positivo, vuol dire che il verso ipotizzato a priori era corretto. Per quanto riguarda la componente verticale di B possiamo scrivere l'equilibrio al momento rispetto a un polo arbitrario, scegliamo il polo A, rispetto al quale quindi si annulla il braccio della componente verticale di A e quindi risulta come incognita soltanto la V con B. Ipotizziamo come momenti positivi quelli anti-orari, quindi avremo V con B per 3L che è il braccio che tende a ruotare rispetto ad A in senso anti-orario quindi positivo, il carico esterno ha un risultante pari a 2QL diretta verso destra, ha braccio L rispetto ad A e tende a far ruotare in senso orario, pertanto viene scritta nell'equazione con un segno negativo. Possiamo semplificare L e quindi ricaviamo da questa equazione V con B uguale a 2QL diviso 3. Il fatto che il segno sia positivo vuol dire che l'abbiamo ipotizzata corretta e quindi effettivamente la componente verticale di B sarà pari a 2 terzi di Q per L. Per determinare a questo punto la componente verticale di V con A scriviamo l'equazione di equilibrio della traslazione verticale e quindi otteniamo, essendo le uniche due forze verticali in gioco, V con A uguale a V con B, naturalmente sono uguali opposte, avevamo opportunamente indicata diretta verso il basso, anche quindi V con A avrà una componente verticale pari a 2QL terzi, questa volta diretta verso il basso. Il fatto che risulta essere positivo vuol dire che era confermato il verso scelto inizialmente. Possiamo determinare queste reazioni, come già visto abbondantemente nelle lezioni precedenti, anche per via grafica, ricordando che la reazione verticale, diciamo la reazione del carrellino è verticale, la risultante del carico è orizzontale pari a 2QL, nel punto di intersezione fra la verticale condotta per B e la risultante del carico esterno, per questo punto dovrà passare anche la R con A, che dovrà passare quindi per questo punto e per A. La R con A quindi avrà una pendenza pari a 3A1, perché spostandoci di 3L saliamo solo di L e quindi avrà come rapporto fra la componente orizzontale e la componente verticale un rapporto pari a 3A1. Questo è il poligono delle forze di equilibrio per quanto riguarda quindi le reazioni esterne, 2QL e il carico esterno, R con A è la reazione della cerniera, che quindi ha la componente verticale e orizzontale in rapporto 3A1, mentre R con B sarà la dieta verso l'alto e pari a 2 terzi di QL, come effettivamente ottenuto precedentemente utilizzando le equazioni cardinali della statica. Naturalmente possiamo scomporre la reazione di A, quindi questa volta è un problema di equivalenza, non di equilibrio, quindi la componente orizzontale sarà 2QL come appunto ricavato precedentemente e la componente verticale pari a 2QL terzi. L'aspetto forse più delicato di queste strutture è passare dalle reazioni esterne alla determinazione di come queste reazioni esterne vanno in qualche modo a distribuirsi all'interno della struttura. Se andiamo ad osservare il tratto A di E, risulta essere scarico e quindi la componente della reazione interna di A che va a gravare su questo tratto dovrà passare per A e passare per E. Quindi in pratica il comportamento di questo tratto è una biella che ha una pendenza pari a 1 su 2, quindi spostandoci orizzontalmente di 1 sale verticalmente di 2. Nel tratto di destra invece potrà essere assorbita solamente una forza orizzontale. Infatti il tratto A B può essere visto come una biella interna che reagisce esclusivamente con una forza diretta secondo il proprio asse. Pertanto la componente V con A andrà tutta a scaricarsi sul tratto A E. Nota quindi la componente verticale sul tratto E, è possibile determinare la relativa componente orizzontale pari a QL terzi essendo quest'ultima inclinata di 2 a 1. La componente orizzontale che va a gravare sul tratto A B, infine, 5 terzi QL, si ottiene per differenza tra la componente orizzontale globale e la componente QL terzi che va a gravare sul tratto verticale. Allora otterremo che per i rapporti delle pendenze 5 QL terzi sarà la parte che andrà a gravare sulla biella 3 e QL terzi sarà invece la componente, diciamo, l'aliquota di H con A che andrà invece ad essere che andrà a scaricarsi sul tratto A E. Quindi gli originari 2 QL, quindi 6 terzi andranno distribuiti QL terzi sul tratto verticale e 5 terzi di QL sul tratto orizzontale. Dal momento che QL terzi è la componente orizzontale, siccome il rapporto deve essere 1 a 2, la componente verticale 2 QL terzi andrà tutta a gravare sul tratto verticale, anche perché sul tratto orizzontale A B non possono essere esercitate forze verticali. Pertanto possiamo in qualche modo dalla cerniera A determinare anche le reazioni interne della cerniera in E che quindi reagirà come componenti anch'essa con un rapporto di forze fra quella componente orizzontale e quella verticale di 1 a 2 e quindi QL terzi sarà la componente orizzontale e 2 QL terzi la componente verticale. Andiamo ulteriormente a determinare e a verificare quanto ottenuto per via grafica andando a considerare il tratto E B. Allora il tratto E B che è soggetto al carico distribuito e alla reazione 2 QL terzi del carrellino che va tutta a gravare sul tratto verticale essendo A B una biella per garantire l'equilibrio di questo tratto bisogna andare a determinare il valore della reazione N A B facendo l'equilibrio intorno ad E del tratto E B. Naturalmente le forze in gioco sono la reazione N A B che dice sul tratto E B la reazione del vincolo 2 QL terzi e il carico esterno 2 QL quindi scriviamo l'equilibrio del momento intorno ad E considerando positivi momenti anti-orari quindi si ottiene 2 QL che è il carico esterno che ha braccio L e tende a ruotare in senso anti-orario quindi positivo poi abbiamo 2 QL terzi che è la reazione del carrellino che ha braccio 2 L e anche esso tende rispetto a E a ruotare in senso anti-orario e infine la N A B quindi diciamo la reazione interna del tratto A B che abbraccia 2 L rispetto ad E e questa volta tende a ruotare in senso orario ricavando quindi N A B otteniamo N A B uguale a 5 QL terzi che è effettivamente il valore determinato precedentemente per via grafica naturalmente questo 5 QL terzi che abbiamo determinato è la forza che agisce sul tratto E B e per equilibrio quella che invece agisce sulla biella A B sarà uguale opposta quindi la biella B risulta essere tesa e soggetta a uno sforzo normale pari a 5 QL terzi passiamo a tracciare note quindi le componenti delle reazioni interne i diagrammi di sforzi partendo dallo sforzo normale quindi riportiamo in qualche modo le reazioni esterne abbiamo visto che il tratto A B risultava essere teso quindi soggetto a uno sforzo di trazione il cui valore risultava essere uguale a 5 terzi di Q per L il tratto verticale B C invece era compresso perché andava a essere interessato della reazione verticale del carrellino il cui valore era appunto 2 terzi di Q per L il tratto del montante orizzontale di C invece era soggetto a uno sforzo di trazione pari a QL terzi mentre il montante di sinistra a D risultava essere soggetto a uno sforzo di trazione pari a 2 QL terzi è da osservare come ovviamente la presenza della cerniera in corrispondenza di E non alteri quindi il valore dello sforzo normale in quanto le reazioni di sinistra e le reazioni di destra sono uguali e opposte quindi non c'è un salto nel diagramma dello sforzo normale ovviamente non essendoci sforzi forze esterne applicate lungo l'asse diciamo parallele all'asse degli elementi quindi in qualche modo se ricordiamo l'equazione differenziale del sforzo normale la cui derivata del sforzo normale era uguale al carico distribuito applicato non essendoci carichi distribuiti naturalmente avremo come è questo caso soltanto diagrammi costanti per ogni singolo tratto passiamo al diagramma del taglio allora in questo caso avevamo che il tratto orizzontale era soggetto a un taglio negativo di intensità pari a 2 quelle terzi il tratto invece soggetto a carico distribuito è l'unico tratto che ha un diagramma di taglio variabile linearmente partendo da un valore iniziale in corrispondenza di b pari a 5 quelle terzi che era il valore determinato prima con l'equilibrio intorno a E del tratto e B è un valore pari invece a quelle terzi in corrispondenza di C per quanto riguarda il tratto del montante di sinistra D soggetto a un taglio positivo pari a quelle terzi mentre non c'è taglio nel tratto A B trattandosi di biella è possibile determinare la scissa rispetto al quale si annulla il taglio nel tratto CB che è importante perché così ci dà un'informazione dove si andrà a trovare il massimo del momento flettente perché da dove si annulla il taglio ovviamente c'è un punto di stazionalità nel diagramma di momento flettente si può fare un semplice rapporto in questo caso 5 terzi sta a X dove X è la distanza del punto di nullo rispetto a B come un terzo sta a 2L meno X da cui si ricava questo valore è pari a 5 terzi di L passiamo al tracciamento del diagramma del momento flettente che ovviamente sarà un diagramma lineare in tutti i tratti tranne nel tratto soggetto a carico distribuito quindi tranne nel tratto CB ovviamente il diagramma di momento si dovrà annullare in corrispondenza delle cerniere quindi se andiamo a osservare il tratto a D avremo un valore che partiva da 0 fino a un valore pari a 2QL quadro terzi laddove QL terzi è la forza orizzontale che agisce quindi il taglio che agisce sul tratto AB e quindi a distanza di 2L abbiamo 2QL quadro terzi in corrispondenza di D possiamo ribaltare il valore ottenuto in D questo valore dovrà essere lineare quindi conosciamo il valore in D conosciamo che in E il momento avrà un null un punto di nullo e quindi possiamo tranquillamente tracciare il diagramma e per in qualche modo proporzionalità essendo la distanza di E rispetto a D pari alla metà rispetto a quella che intercorre fra E e C il valore in C sarà il doppio rispetto a quello che si ha in D dopodiché possiamo ribaltare il diagramma per l'equilibrio al momento rispetto al nodo C quindi in qualche modo questo valore sarà anche il valore del momento in C e possiamo quindi tracciare la nostra parabola che avrà questo valore in C e valore nullo in B il massimo effettivamente si ha in questo punto cioè a 5 terzi di L di distanza rispetto a B anche in questo caso nel tratto a B il momento è nullo essendo una biella passiamo al tracciamento di curva delle pressioni che va ovviamente costruita tratto per tratto considerando le reazioni interne quello che possiamo inizialmente dire è che nel tratto a B trattandosi di biella la curva delle pressioni coincide con la biella stessa quindi coincide con la retta B la retta B è quella indicata in figura quella che unisce A con B per quanto riguarda il tratto A D coinciderà con la retta A e la retta che unisce A con E questo l'avevamo già determinato per via grafica inizialmente così come nel tratto D E coincide con la stessa retta e anche nel tratto E C la curva delle pressioni coincide con la stessa retta l'unico tratto quindi che è soggetta a un tratto parabolico è il tratto soggetto al carico distribuito costante quindi avremo una parabola ad asse orizzontale in questo caso questa parabola C che passerà per E passerà per D e sarà tangente in E alla retta A e in B alla retta che unisce B con il punto di intersezione tra la retta A e la risultante del carico quindi quella tracciata in figura questa parabola ad asse orizzontale è la parabola che dà la curva delle pressioni quindi si vede come si ha questa transizione dolce fra la retta d'azione nel tratto A E e quella invece della biella B passiamo a un altro caso il caso in esame è leggermente diverso rispetto al precedente non per i vincoli esterni che sono gli stessi ma per il fatto che la maglia chiusa risulta essere a tre sconnessioni al solito una è una sconnessione semplice la cerniera in C e poi abbiamo una sconnessione doppia ovvero sia un pendolo interno orizzontale in corrispondenza del punto D la struttura poi abbia due sbalzi uno lo sbalzo sul tratto AB e l'altro lo sbalzo GH e sia soggetta a un carico distribuito sullo sbalzo di sinistra di intensità pari a 2Q ha una forza verticale applicata all'estremità del tratto 2 quindi in corrispondenza di D ma sul tratto 2 e sia soggetta a un carico distribuito orizzontale diretto verso sinistra anch'esso in intensità 2QL gli sbalzi abbiano una luce pari ad L la dimensione invece della maglia interna sia 2L la dimensione orizzontale ed L la dimensione verticale per quanto riguarda il computo dei vincoli per essere certi che la struttura sia isostatica naturalmente cosa possiamo dire la maglia interna è isostatica perché ha diciamo ha tre sconnessioni ben disposte diciamo che il pendolino può anche essere visto come due cerniere distinte quindi come se avessimo tre sconnessioni semplici quindi ha una corretta posizionamento delle sconnessioni interne quindi considerando tutta la struttura come un unico corpo rigido i vincoli esterni al solito sono una scerniera in C e un carrellino a scorrimento orizzontale in E che non danno nessun non danno luogo a nessun centro di rotazione assoluta comunque facendo il computo dei vincoli in questo caso abbiamo la struttura costituita da due tratti il tratto se vogliamo A B D C il tratto di sinistra e poi il tratto C E G D che è il tratto di destra quindi a sei gradi di libertà originali abbiamo tre vincoli interni che sono il pendolino in D e la cerniera interna in C più i tre vincoli esterni quindi a sei vincoli abbiamo che il numero di vincoli uguali al numero di tratti di libertà della struttura e quindi anche facendo il compo dei vincoli la condizione necessaria affinché la struttura sia esostatica è verificata passiamo a determinare mediante l'equazione di equilibrio le reazioni vincolari esterne in questo caso ipotizziamo la H con C diretta verso destra la V con C e la V con E entrambe dirette verso l'alto cominciamo dall'equilibrio alla traslazione orizzontale da cui ricaviamo che essendo H con C l'unica reazione l'unica componente reattiva orizzontale andrà ad assorbire tutto il carico orizzontale che quindi è 2QL e siccome il carico è diretto verso sinistra la reazione correttamente è stata riportata verso destra quindi la componente di H con C il modulo di H con C è pari a 2Q per L se andiamo a scrivere adesso l'equilibrio al momento rispetto a C determineremo la componente V con E e quindi diciamo ricordiamoci sempre che i momenti per noi positivi sono quelli anti-orari quindi abbiamo V con E che rispetto a C abbraccio 2L e che tende a ruotare in senso anti-orario quindi positivo poi abbiamo l'aliquota del carico orizzontale che è 2QL che abbraccio L mezzi rispetto a C e anche questo tende a far ruotare in senso anti-orario quindi positivo poi abbiamo ancora il carico distribuito sul sbalzo AB che ha risultante anch'esso 2QL e abbraccio anch'esso un mezzo di L e rispetto a C anch'esso fa ruotare in senso anti-orario quindi a contributo positivo e infine abbiamo la forza esterna applicata QL che abbraccio L rispetto a C e questa volta tende a far ruotare in senso tende a ruotare in senso orario quindi a contributo negativo da questo ricaviamo V con E quindi uguale a un mezzo di Q per L se andiamo a scrivere adesso l'equilibrio del momento rispetto ad E possiamo ricavare il valore di C diciamo sono analoghe le considerazioni quindi ricaviamo V con C uguale a sette mezzi di Q per L questo valore si sarebbe potuto ricavare anche scrivendo l'equazione di equilibrio alla traslazione verticale dell'intera struttura quindi abbiamo così determinato il valore delle reazioni vincolari pari quindi a sette mezzi di QL la reazione verticale di C due QL la componente orizzontale della reazione mentre QL mezzi la componente verticale della reazione in E per quanto riguarda le reazioni interne andiamo ad analizzare tratto per tratto quindi andiamo a guardare il tratto il tratto 1 il tratto AB DC questo tratto sarà soggetto a tre forze abbiamo la forza esterna che ha risultante due QL applicato nella mezzeria dello sbalzo AB abbiamo la reazione orizzontale del pendolino che non può che essere solo orizzontale della quale conosciamo la direzione quindi le due forze vanno a incontrarsi in questo punto per questo punto dovrà passare anche la reazione interna della scerniera di C che quindi passerà per C e per questo punto e che avrà quindi pendenza 2 a 1 quindi 2 la componente verticale 1 la componente orizzontale facciamo l'equilibrio del tratto e quindi 2 QL sarà la forza esterna nel rapporto 2 a 1 sarà QL la componente orizzontale della R con C e 2 QL invece quella verticale quindi le componenti che discono sul tratto 1 saranno 2 QL dietro verso l'alto che va a equilibrare il carico esterno e QL orizzontale che va a equilibrare la componente invece del tratto del pendolino D quindi queste sono le reazioni interne quindi abbiamo una reazione di QL che è la reazione del pendolino sul tratto in questione chiaramente direte in senso opposto è quella della reazione della scerniera C mentre la scerniera C regisce con una forza verticale pari a 4 mezzi quindi a 2 QL che va a equilibrare il carico verticale andiamo adesso a particolarizzare il discorso per quanto riguarda la scerniera C andando a dettagliare quelle che sono le componenti reattive esterne e quelle che vengono invece distribuite nei tratti per la fattispecie nel tratto verticale nel tratto orizzontale CE allora noi abbiamo visto che la componente per quanto riguarda le componenti verticali 7 mezzi di QL era la reazione esterna della scerniera in C sul tratto verticale hanno determinato che 4 mezzi 2 QL era quello invece che andava a equilibrare le forze applicate sul tratto verticale quindi questo è 4 mezzi QL dietro verso l'alto e quella che grava quindi che la scerniera C scarica sul tratto verticale quella che il tratto verticale scarica su C naturalmente è uguale opposta e diciamo l'aliquota che del tratto orizzontale che va a equilibrare la reazione esterna a 7 mezzi non può che essere 3 mezzi di QL quindi 3 mezzi di QL è la forza che il tratto orizzontale va a scaricare sulla scerniera per l'equilibrio e quindi quella che la scerniera scarica invece sul tratto sarà una forza 3 mezzi di QL diretta verso l'alto fatto questo per l'equilibrio alla traslazione orizzontale 3QL è la componente orizzontale che equilibra il 2QL esterno più il QL orizzontale che veniva e abbiamo ricavato per il tratto 1 e quindi per per quanto riguarda le altre forze orizzontali a questa 3QL diretta verso destra farà equilibrio la 2QL che è il risultante delle forze esterne applicate più la reazione interna del pendolino in D fatto questo passiamo al diagramma degli sforzi cominciamo da quello normale il tratto orizzontale inferiore della maglia chiusa è soggetto quindi a uno sforzo di compressione pari a 3QL il tratto verticale del montante di sinistra è soggetto a uno sforzo anch'esso negativo pari a 2QL lo sbalzo naturalmente non è soggetto a sforzo normale il montante superiore è soggetto invece a uno sforzo di trazione pari a Q per L lo sbalzo di destra anch'esso non è soggetto a sforzo normale mentre il montante di sinistra è soggetto a uno sforzo normale pari a QL prima parlavo di montante ma era il corrente orizzontale superiore soggetto a uno sforzo normale positivo pari a Q per L a uno sforzo normale di questo tipo otteniamo invece un diagramma del taglio che avrà un andamento costante in tutti i tratti tranne nei punti soggetti a carico distribuito costante quindi sarà lo sbalzo di sinistra e la parte verticale di destra per quanto riguarda il tratto orizzontale inferiore abbiamo un taglio positivo pari a 3 mezzi Q per L per quanto riguarda il montante di sinistra avremo un taglio positivo pari a Q per L nel tratto nello sbalzo ovviamente abbiamo il classico diagramma di taglio dovuto a uno sbalzo con un valore che passa da 0 in corrispondenza dell'estremità libera a 2 QL che è il valore totale del carico distribuito ed ha un taglio negativo per quanto riguarda invece il montante di sinistra avremo una variazione lineare passante tutto negativo con un valore massimo in corrispondenza della parte inferiore pari a 3 QL e un valore di QL in corrispondenza dell'estremo superiore il tratto orizzontale diciamo il tratto di sinistra del corrente orizzontale prima del pendolino naturalmente non ha soggetto a taglio perché è soggetto soltanto alla reazione orizzontale della biella interna e quindi sarà soggetto solo sforzo normale viceversa nel tratto di destra abbiamo un taglio questa volta negativo dovuto alla presenza della forza QL mentre lo sbalzo non è soggetto a nessun taglio essendo scarico analogamente passiamo al diagramma dei momenti flottenti nel tratto orizzontale inferiore passeremo da un valore nullo in corrispondenza della cerniera a un valore massimo in corrispondenza dell'appoggio pari a 3 QL quadro ribaltando questo valore otteniamo un tratto questa volta parabolico dovuto alla presenza del carico distribuito con un valore minimo pari a QL quadro in corrispondenza del nodo superiore qui ribaltiamo lo sbalzo e scarico quindi tutto il momento va assorbito dalla parte di sinistra e andiamo ad annullare il momento in corrispondenza della biella che non reagisce naturalmente al momento per quanto riguarda lo sbalzo di sinistra questo avrà il classico andamento di uno sbalzo quindi con un diagramma parabolico con tangente orizzontale nullo in corrispondenza dello sbalzo dell'estremo di sinistra e un valore massimo pari a QL quadro in corrispondenza dell'incastro dopodiché questo momento va tutto scaricato sul tratto verticale che passa dal valore QL quadro a 0 in corrispondenza della cerniera a questa diagramma di momento flettente corrisponde una deformata elastica qualitativa quale quella riportata in figura con le fibetese che sono quelle indicate col tratteggio in rosa e che sono naturalmente quelle relative al tratto in cui abbiamo riportato il diagramma del momento flettente quindi le fibetese sono quelle riportate in figura nella prossima lezione passeremo allo studio di una particolarissima tipologia molto utilizzata in ingegneria civile che sono le travature reticolari e infine nell'ultima lezione che faremo insieme che riguarderà la parte di statica ripasseremo e rifaremo per ogni tipologia un esercizio quindi faremo un esercizio anche per strutture a maglie chiuse che riguarderà fra l'altro un ponte il ponte amarillo di Calatrava in Siviglia grazie e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti